I clienti stanno registrando vendite da record per alcuni beni. I supermercati. Cazzo, stavo dormendo! Hai presente la convenzione di Ginevra? Ho dei diritti! Facciamo così. Se trovi un telefono puoi chiamare il tuo avvocato. Progressi con la ricognizione? Sto cercando un ex-plà per ottenere un feed. Dammi solo due minuti. Scusatemi, la presidenza ha confermato che tre squadre SEAL sono in attesa del segnale. Grazie, Olly. Accertati che siano pronte. Sai cosa? Dammelo! È qui che i soldi sono arrivati sul mio conto, con un bonifico. Avete aggiornamenti sul quarto possibile sito? Abbiamo finito proprio ora. Il bonifico è arrivato da Mirawa, Iraq orientale. Grim, non ho immagini del... Tutto ok, ci penso io. Prendi un Onyx spia in prestito dalla difesa. È il più grande dei campi che abbiamo trovato. Molto ben difeso. Ascoltate. La nostra possibilità migliore è Mirawa. Voglio entrare in azione in tempo zero. Charlie, il feed via satellite. Trova ogni arma, veicolo e uomo nel campo. Se c'è un bambino con la fionda, voglio saperlo. Va bene. Briggs, un drone di supporto. Ok. Grim, coordinati con i SEAL. Devono colpire gli altri campi mentre siamo a Mirawa. Non c'è abbastanza tempo, Sam. Devo essere a terra non appena raggiungiamo il campo. Puoi andare da solo? Niente di personale, ma a Benghazi abbiamo avuto problemi. Ti voglio sull'elicottero per l'estrazione. Non per farmi i cazzi vostri, ma questi fanno sul serio, non è vero? Se li volete morti, perché non li nuclearizzate dall'alto? Appunto. Sono cazzi nostri. Vogliamo dati, non una fottuta strage. Portatelo fuori di qui. Muoviamoci. Volevo solo... È un territorio nemico. Fumogeni e microcamere ti aiuteranno a sapere come muoverti e a mantenere un vantaggio tattico. Grazie a tutti. 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 Paracadute aperto. Riggs, puoi colpire il nemico senza lasciare testimoni? Ti libero la strada. E a terra E a terra Eliminato E andato L'ho preso Puoi avanzare Sam Ricevuto Briggs Ben fatto Grim sono a terra Mi muovo Sam I visori termici indicano un gruppo di nemici Si stanno riunendo in una casa sul fiume Charlie, opzioni Devo beccare il compratore di Cobin Prima che mi trovino Ti ho preparato un trirotore Con riconoscimento facciale Meglio di quello che avevamo per venire Disvariate grandezze Arriva a 50 metri per racciarlo E dovrebbe funzionare Grazie a tutti Sam, rilevo nemici lungo il tuo vettore. Non farti scoprire. Grazie, Green. Grazie a tutti. 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 Abbiamo un uomo a terra. Grazie a tutti. Tu vedi qualcosa? Non ho niente. Niente. Niente qui. L'area è libera. Dividiamoci. No. 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 Cobin manda i suoi saluti. No. 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 Aspetta, aspetta solo un secondo! Fermo, fermo, fermo! Stronzo! Sono delle MI6! Tre anni! Tre anni! Sotto copertura e tu li hai mandati a puttane! Dimmi qual è il tuo codice. 757, bravo, Victor 9! Oscar 98! Che cazzo l'hai rotto! Grimm, hai sentito? Sì, certo, Sam. Allora, per chi lavori, dimmi. Cia? È scaduto. Voglio una scazione della retina. Voglio parlare con il responsabile. Avanti. Andiamo. Ci stai parlando. Che cazzo fai, eh? Si chiama Jadid Didos. Era nell'MI6, ora non più. L'hanno cacciato cinque anni fa perché faceva il doppio gioco. Basta scherzi, Jadid. Blacklist. Parla. I soliti americani. Sempre a fare i cowboy. Parla, ho detto. È troppo tardi. Sam, stanno inviando una grande mole di dati dal complesso sopra di te. Che piani avete? Siamo già andati oltre. Li stiamo attuando. Se tu sei qui... Io sono già morto. Merda. Che cos'è successo, Sam? Si è sparato. Porca troia. I dati vengono da un centro comunicazioni nel villaggio in alto. Cerca delle parabole. La strada di montagna è ben difesa. Qual è il piano d'attacco, Sam? Scalerò da qui. Prepara l'elicottero per l'estrazione e aspetta. Subito. Sam, ho in linea il capo del sito Delta. Paladin, qui Gridiron. Passo. Gridiron, qui Paladin. Chiedo rapporto. Passo. La zona operativa trabocca di contatti ben armati. Ci stanno attaccando in questo istante. Passo. Fortificazioni, contraattacchi coordinati. Davvero una bella accoglienza. Passo. Pensi che si aspettassero il nostro attacco. Passo. Affermativo. Non temere, gli facciamo il culo. Gridiron, chiudo. zwemo. ffضi. Affermazione dizis. A viv missing. Un messo di providing da me. Di BE. Son. Capita. Impossi. Spirsi. All'inforzado. Va dire. Li facciamo il instantly. Puarts. Come. A C firmini è passato. Scatat. Scat aloti. Perennò. Capita. sono sotto il ponte che porta al villaggio Sam, vedo del movimento sopra di te Sì, 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 vedo del movimento sopra di te Vedo del movimento sopra di te Sì, vedo del movimento sopra di te Cos'hai trovato? Vedo del movimento sopra di te 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 Sì, vedo del movimento sopra di te Pensi che questi tizi c'entrino con il primo attacco? Non ho sentito il farsi, Nguam Gli ingegneri non hanno confini Potrebbe esserci chiunque Sì, vedo del movimento sopra di te 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 Hanno giustizio sopra di te Era solo un ragazzo? L'hanno ripreso L'hanno ripreso? Sì, vedo del movimento sopra di te 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 Sto bene L'hanno ripreso Sì, vedo del movimento sopra di te L'hanno ripreso L'hanno ripreso L'hanno ripreso L'hanno ripreso L'hanno ripreso